Nisture rappresenta una grande opportunità perché era un ecosistema Italia digitale competitivo e trasparente, ma non solo, dare certezza, dare sicurezza e dare l'opportunità a tutte le nostre aziende di poter giocarsi la partita del futuro, insieme non solo con gli stakeholder ma con le istituzioni, per una visione in cui difesa, sicurezza e competitività possono essere i tre pilastri per cui l'Italia può tornare grande e, logicamente, perché no, protagonista in un futuro non solo digitale ma anche di nuove generazioni.